GF VIP7, nuovo confronto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sbotta, tu non ti rendi conto di come mi hai ridotto. Innesimo confronto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria nella casa del grande fratello VIP7. La notte scorsa, la salernitana raggiunto il romano all'interno del van dopo aver notato l'assenza di lui nell'ofto di Cinecittà. Giunta con l'unico intento di sapere cosa stesse facendo e stesse bene, Antonella ha precisato di non aver intenzione di discutere perché voleva guardare le stelle cadenti con l'amica Nikita Pelezon. Una volta constatato che il volto di Forum stava avendo un momento di sconforto, si è fermata al suo fianco dando il via ad un nuovo litigio. Inevitabile, verrebbe da dire. Considerando le recenti discussioni che fanno da sfondo ad un rapporto costernato da incomprensioni. Frasi trevisate e incapacità di capire l'altro. In questa occasione, i due sono tornati sulle frasi pronunciate nei giorni scorsi, in merito alle quali la Fiordelisi ha spiegato. Edoardo ha quindi replicato. Purtroppo sono consapevole di tutti i difetti che hai, di tantissime cose del tuo carattere che non mi piacciono. Ha aggiunto il romano, ma l'influencer, sono io quella che è stata male, non te, continuando. Ho crescut, pe scurt, de la un pui salbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, tre'i să depășesc plutonul cu fiecare text pe, mafia, parasiții, dragonul, maxi, gespe, chimie, rimaru, spike, buia, si, swapo, grasul, nimeni altul, delvede, sau carbo, tre'i să vă mănânc vers cu vers card intens, tre'i să crezi, crezi ce vrei să crezi, io vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor, de zici că mă bar cu boss-ul, la cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul? Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le pierd la o mie de grade Celsius, să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.